La montagna e le valli saranno al centro del programma politico del Partito Democratico in vista delle elezioni provinciali del 6-7 giugno. Il PD bergamasco riparte dal territorio e sfida gli avversari di centro-destra, soprattutto la Lega Nord, sfoderando la sua personale ricetta di federalismo. Una provincia che non sta sopra i comuni, che non è la provincia del Presidente, ma una provincia che è accanto ai comuni, una provincia che esalta le comunità. Se vinceremo le elezioni, ed è molto facile, io nominerò un assessore alla montagna, cioè l'amministrazione provinciale targata Cornolti darà concretamente il segno dell'attenzione con una persona, con un assessorato, quindi anche con una dotazione economica, proprio perché il territorio montano, le persone che abitano in montagna e quelli che ci abiteranno siano davvero presi in grande considerazione. Cornolti punta poi l'attenzione sul lavoro fatto negli ultimi mesi per preparare un programma attento alle esigenze della gente e non risparmia critiche ai suoi avversari, colpevoli, secondo lui, di sentirsi già la vittoria in tasca e quindi poco attenti ai contenuti della loro proposta politica. C'è solo il programma del centro-sinistra. I miei avversari hanno preparato la squadra, probabilmente hanno già diviso gli assessorati, noi invece ci siamo impegnati a fare un programma preciso, un programma che non abbiamo scritto a tavolino, assolutamente, ma che è frutto di 14 incontri pubblici che abbiamo fatto nel mese di febbraio e di marzo in tutta la provincia.